buona a tutti ragazzi qua nicolas che vi parla d'oggi siamo in un nuovo video ragazzi nuovo video non so perché mi sono fissata con questa cosa ma prima di soltanto siamo in un nuovo video perché io devo cenare tra poco mi accenerò adesso mi stanno stavo facendo i panini ragazzi sempre lo scambio di luce qua c'è il led già l'avete visto nel tour qua dietro c'è tutta la patita bianca ricordate che nel tour praticamente vedendo questo coso mi è caduto io sono saltato ragazzi aspettate praticamente oggi ogni sera ogni stile a fare il blog blog lo chiamerò blog notturno e ragazzi ragazzi la mi sono sono saltato se no io urlo veramente da femmina nella classe alcuna una volta ho fatto saltare mai tutti stavo per una tipo fortunatamente che stavo facendo un video perché se se faceva una figura di di cacca ragazzi perché il mio canale le parolacce non ci sa forse qualche parolacce mi scapperà nel video che figata è vero che figata è vero vabbè che devo dire da nicolasoggi è tutto con il primo episodio del blog notturno ogni giorno ci sarà il blog notturno allora faremo il blog mattino della mattina del pomeriggio e della sera incomincerò vabbè ciao ragazzi ciao 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 ciao